Monica De Mattei, artista, imprenditrice. Monica, noi ci troviamo in questo momento proprio tra le tue opere. Ti chiedo innanzitutto come nasce questa tua passione per la pittura? Allora, nasce da quando ero piccola, è sempre stata la mia passione dipingere. Poi ho fatto studi scientifici, per cui durante il liceo ho fatto principalmente disegni tecnici, ho fatto architettura, quindi ancora disegno principalmente tecnico. Poi ho fatto dei corsi di trompeoil, dove ho iniziato a fare dei quadri con i primi soggetti marini e ho fatto gli oblò, ho fatto gli oblò con quei pesci che mi aveva chiesto un hotel di paraggi e da lì ho iniziato a sviluppare il tema marino, il tema dei pesci, che comunque è un soggetto che è indubbiamente nella mia vita. Ecco, però tu dicevi, io mi sposto con la camera, la voglio fare vedere, lei comincia con questa sua prima opera che è una farfalla e poi progressivamente invece nasce l'idea del pesce che è proprio qua accanto a lei. Allora, domanda, come hai fatto a passare, come è nata l'idea di passare dalla farfalla al pesce? Cioè è stata una cosa istintiva? Allora, sicuramente con la farfalla è ricominciata la mia grande passione per la pittura. Ho avuto un periodo in cui mi ero dedicata principalmente ai gioielli, ho fatto invece questo altro corso che si chiama Social Art Paint, durante il quale il tema era la trasformazione e quindi ci ho fatto dipingere questa farfalla che passa da bruco a farfalla. Su questo quadro ho iniziato a lavorare ed è da lì è nata effettivamente la mia trasformazione. Il passaggio da farfalla a pesce è stato proprio... appena ho finito la farfalla avevo già iniziato un pesce. E quindi ho iniziato subito con questo.